Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Traduzione in italiano, so che poi me lo chiederete anche nei commenti, ci faccio sempre dell'ironia però dovete scrivere traduzione Wartales e finirete sulla pagina di download. Non è ancora uscita diciamo ufficialmente però diciamo che al momento funziona itgames.it quindi itgames.it troverete le traduzioni della community ve lo dico così non rispondo più nei commenti su questa cosa. La cosa che, grandissimo lavoro dei ragazzi che l'hanno tradotto, la cosa che mi diciamo preoccupa un pochino di più è il fatto che il gioco subirà degli aggiornamenti perché anche se è uscito prevedono DLC, prevedono aggiornamenti, nuove aggiunte, è probabile che la traduzione se non verrà supportata ufficialmente diciamo che andrà avanti un po' come succede con Stellaris. Cioè esce l'aggiornamento, la traduzione riporta degli errori e bisogna aspettare il fix. Tutto qua. Ma a parte questo lo possiamo cominciare, vedete che è tutto tradotto. È stato tradotto da un'intelligenza artificiale poi sistemata a mano ed era una quantità spaventosa di testo. I tuoi compagni sono, vedete che possiamo scegliere... Facciamo il canonico inizio molto semplice, molto base, molto buono. Amici apprendisti, ci dà influenza più 30, materie meno 5. I tuoi compagni sono eccellenti nei giochi con gli schiaffi, no? Imparano in fretta. Sono amici smart. Se avessero un difetto sarebbe... Un aspetto piuttosto mite. Difficoltà ad alzarsi. Non lo so. Sì dai, calcolando i miei precedenti insomma degli amici che vogliono dormire. E ora abbiamo una spiegazione un po' più dettagliata di quello che è l'inizio del gioco. La difficoltà in esplorazione adattiva si adatta dinamicamente alle dimensioni del gruppo e alla potenza delle unità. Il gioco offre sempre una sfida adatta alle vostre truppe. Invece l'esplorazione con blocco regionale ha una difficoltà prestabilita fin dall'inizio. Dovete espandere migliorare le vostre truppe prima di poter entrare nelle aree più pericolose. Che è più carina come cosa secondo me perché trovare sempre una difficoltà giusta non fa vivere quella voglia di potenziare il proprio equipaggiamento, il proprio gruppo, il proprio party. Difficoltà di combattimento normale, di sopravvivenza normale si intende come fame, stanchezza, salario, quindi la paga. Modalità libera di salvataggio. L'Iron Man è quella classica dove c'è un save solo. E qui possiamo personalizzare le nostre persone. Abbiamo il pony, abbiamo Phoenix, andiamo a vedere... Ah, è la donna? Vabbè, diamogli dei capelli più da donna. Questa sembra quella di Eightful Eight. Vabbè, dai, sembrano tutti dei carcerati, però va bene, dai. Facciamo qualcosa di un po' più femminile, ecco così. Bene, questo è l'aspetto, il colore dell'abbigliamento non ci interessa. Abbiamo le abilità, sparare, vigilanza. Il tratto è random perché, vedete, è tutto tradotto, quindi tutte le varie cose sono ben specificate qui. Tratto positivo, va bene, niente. Abbiamo lo spadaccino, il bruto, il ranger e l'acere per quanto ci siano differenze. Utilità, vediamo, sì, possiamo cambiare questa. Ma non so se possiamo cambiare anche la classe iniziale, però insomma, vabbè, si iniziano. Vediamo com'è l'inizio del gioco e ci facciamo un'idea. I miei compagni sono partiti in cerca di ventura. Dopo alcuni giorni di viaggio, tranquillo, la loro unica impresa è stata quella di non perdersi. E sono arrivate le destinazioni, qui sicuramente li attende una ricerca originale ed emozionante che movimenterà la vita monotona degli apprendisti annoiati. Premetto, il gioco secondo me è giocabilissimo anche in inglese, ma la traduzione in italiano è un plus in più per chi non ha voglia di leggere e tradurre e vuole rilassarsi semplicemente. Ora, abbiamo l'interfaccia di gioco con i nostri... e questa è una cosa molto bella perché mi piace tantissimo il mondo come fatto e mi piace tantissimo il fatto che sia rappresentato tutto esattamente così come lo si vede. Ora, il video è una copia esatta di quello che vi ho fatto già vedere nella 1.0, insomma, dell'annuncio. Qua è ancora in inglese, però è sotto perfezionamento. Vediamo se la parte di combattimento è giusta. Ah, sì. Infligge 3-4 danni al bersaglio. Eh, no. Ci possiamo muovere. No, 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 no. Muoversi. Lo muovo qui. E poi attacchiamo. 3-6 danni al bersaglio. Ma non possiamo perché abbiamo speso tutti i punti. Niente, passiamo un turno. Lui attacca a distanza. Credo, sì. Però dobbiamo fare un passettino avanti. Fino qui. Vediamo se abbiamo un malus. Eh, abbiamo colpito il nostro compagno. Questa è una cosa bellissima. Che non tutti i giochi fanno. Siamo messi molto male. Questo è un altro combattimento con la lama. Possiamo colpirlo? Evidentemente no. Colpo feroce non lo possiamo fare. Passiamo avanti. Ok. Questo è dei nostri pure lui. Quindi li circondiamo. Vediamo se possiamo attaccare. Sì. Lama rotazione. Bene. La fisicità anche dei combattimenti è bellissima. Quando esegui un attacco in mischia lo ingaggi. Bello. Sì. No, questo è tradotto. Perfetto. Mi piace molto. Perché poi si potranno andare ad assegnare appunto le abilità di crafting dei vari personaggi. Chi tocca? No. Voglio passare il turno. Aia. Nuovo turno sta iniziando. Tocca a noi. Fallo di nuovo. È zero punti vita eh. È andato. Cioè. Vediamo se riesco ad attaccare lontano con questo. Ok. Ah. Gli abbiamo buttato giù l'armatura. Vabbè. Non ha senso che vi faccia vedere questo che l'abbiamo già visto. Insomma. Volevo segnalarvi la presenza di questa traduzione in italiano di Urtensa. Fatemi sapere cosa ne pensate. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.